allora signori penso che è l'ultimo per l'ultimo video ora dobbiamo andare a vedere gli attaccanti signor martino ha preso il reparto lukaku zapata muriel caputo e raspadori ha preso due attaccanti top nel senso che lukaku è un top poi zapata e muriel se non gioca uno giocherebbe ladro comunque sono i grambi fantastici difficilmente giocheranno assieme ma se non gioca uno non gioca l'altro è comunque dell'atalanta che segna tanti gol quindi ha preso due signori attaccanti ok 2 barra 3 signori attaccanti poi caputo è quello della samba che in doppia cifra dovrebbe andare l'attaccante migliore che hanno raspadori del napoli io non so cosa l'hanno preso a fare però hanno investito tanto in zona zona scaglia di excelsi insomma che tra l'altra è diventato nero a parte gli scherzi zona ci può stare un giocatore che se va bene magari ti fa anche dieci gol ecco è quello della spezia la spezia non è che altre scelte al zona e un altro forse dentro non mi ricordo bene ok allora lui ha due titolari forti i due barattari titolari forti più caputo quindi il tridente su può essere così poi in panchina può mettere zona può mettere Raspadori non so in questo momento penso che giocherebbe poco Raspadori però se non c'è Raspadori comunque può mettere si mette Zappada in campo mette Muriel mette Muriel in panchina comunque a posto viceversa è un riparto che a mio avviso merita 8 perché ha due big attaccanti merita 8 sono in due sulla carta devono portarti 40 gol questo qua magari in grossa moda di fa 10 10 è un reparto totale che magari in complesso mette anche Muriel da riserva te ne fa 10 70 te ne può fare di gol che poi ovviamente deve essere bravo a schierarli il momento giusto se anche di questi 70 gol sulla carta ne prendi 50 è un gran che non c'è una roba fantastica poi io non ho fatto il mercato praticamente ho preso due big poi mi sono dovuto fermare perché non avevo altra scelta abraham ha tra l'altro scritto sto coglione allora osimen attaccante titolare del napoli dicono che arriva ronaldo poco credibile anche qua secondo me e poi abraham attaccante titolare della roma quindi due big squadre napoli roma juve inter milan queste sono le squadre che hanno un bomber forte ognuno ha un bomber forte ok io avrei voluto fortemente immobile perché so bene che immobile è buggato in seria è un giocatore che è forte comunque se in seria si trova bene il cambiato della fattoria come la seria si trova da dio immobile a me piace immobile però l'hanno pagato sui 350 ma non sono riuscito però alla fine va bene così due di questi fenomeni ho presi poi lasagna verde destro mota ho dovuto prendere per ultimo alla fine il resto cioè alla fine sono contento nel senso che due big ne ho presi poi gli scarti non dovuto prendere diciamo che osimen avrà messo la carta 20 20 gol a testa che può stare 40 poi lasagna fa cagare magari ne fa 5 destra verde attaccante quasi titolare della spezia penso ne fa 7 8 destro non so dove gioca penso empoli o spezia è un attaccante è un attaccante con grandissima esperienza penso 7 gol può fare mota non so ho visto che era titolare non hanno altra scelta quelli del monza boh se metto 5 5 gol a tutti questi qua ne fanno 20 quindi è un attacco totale da 60 gol ok un po' inferiore a lui però ci può stare ci può stare 60 gol di qui è difficile che ne vada a raccogliere tutto però penso che avendo due giocatori forti almeno 40 45 gol spero di beccare ecco il voto a questo reparto se faccio un paragonale con quelli che hanno preso altri un 7 un 7 e mezzo massimo posso dare dai mettiamo un 7 più perché lasagna verde dentro mota non si può mota soprattutto non si può vedere poi luis lupo ha preso Dybala Giroud no Deulofeu si dice Deulofeu, Giovic, Pinamonti, Henry e Sanabria Dybala penso che è un gran colpo anche se non ha una prima punta è un gran colpo un giocatore che può riscattarsi Dybala Giroud no Deulofeu è statisticamente buono Giovic è un gran giocatore che magari che ne sai fa 20 gol, Pinamonti è un altro, Henry ci può stare Sanabria ha un altro dettore in attitolare insomma lui ha preso, lui probabilmente ha completato bene il reparto però sai ne puoi schierare 3 non è che ne puoi schierare 6 gli attaccanti quindi nel mio caso ho preferito averne due buoni e il resto avere un po' l'imbalazzo della scelta fra 4 pippe lui ha l'imbalazzo della scelta totale magari i migliori sono Iovic, Dybala, Deulofeu in qualche modo e uno fra Pinamonti, Henry e Sanabria è un reparto che merita anche 8 secondo me, 7 e mezzo, poco più di 7 e mezzo merita perché comunque garanzie sulla carta cosa hai, forse Iovic, forse un po' Dybala che può fare 10-15 gol perché Dybala nel suo sangue ce l'ha questi gol, Iovic dovrebbe farli quei gol lì però comunque non ha mai giocato in Serie A quindi lui, i giocatori suoi sulla carta non hanno nessuno di questi a 20 gol scritti 3-4 di questi hanno 10-15 gol garantiti sulla carta però 20 no quindi magari quando vai a scegliere qualcosa sbagli e rischi di non prendere i gol giusti ma alla fine lui è un gran culone, questo Luis Alberto è un gran culone e beccherà sempre i giocatori giusti poi penso che sia Vidal, Arturo Vidal, Berardi, Leao, Arnautovic, Simeone, Gonzales, Correa che cazzo è successo? Hanno cagato sul suo file Berardi, ci sta, che tra l'altro dicono che si ha rotto Leao, ci sta, Arnautovic, Simeone, Gonzales, Correa allora, Correa, i titolari, Leao, Arnautovic e Berardi e Gonzales dovrebbero essere titolari sulla carta quanti gol ti portano? Leao è diventato un fenomeno 15-15 gol sulla carta li porta Berardi, anche lui 10-15 gol sulla carta li porta Arnautovic stesso discorso quindi hai tre che li possono portare almeno 10 gol solitamente devo portare 10 gol Gonzales non mi piace tanto però la sua seconda stagione potrebbe fare un po' meglio lui ha donna varietà, insomma, poi Simeone penso che giocherà poco Correa, una riserva dell'Inter dovrebbe giocare ma poco perché il reparto offensivo dell'Inter è pieno e comunque se a lui abbiamo dato poco più di 7 e mezzo lui penso che può prendere 7 nel senso che ha abbastanza scelta però anche lui non è che abbia uno dei big non ha 20 gol garantiti da nessun giocatore 7 poi penso che sia Bristot ha preso Immobile, Giraudo, Beto, Botmer, Okereke, Cesai allora lui ha speso 3,42 per Immobile cioè ha fatto un gran colpo poi i 6 big giocatori li abbiamo pagati tutti sui 3,50 quindi ci sta e ha fatto un colpo da fenomeni comunque perché Immobile secondo me è quello che ti garantisce di più di tutti perché ha vinto più volte la lessività dei cannonieri e ha più di 200 gol in Serie A penso cioè è quello che veramente ti dà la garanzia solo per avere Immobile lui prende 7 poi con Giraudo che di testa non è un gran che Giraudo ma nel gioco dei Pioli nell'organizzazione che ha il Milan di Pioli lui fa i gol, i suoi 10 gol riesce a fare Beto, non lo so forse è uno che 5 gol, 10 gol può fare Botman non mi dice niente o crei che neanche ci sai secondo me siccome è il tattacca titolare del Lecce penso qualche gol te lo può fare sulla carta hai 25 gol di Immobile 20-25 perché Immobile delle volte è arrivato anche a farne 30 quasi 30 hai 25 più diciamo 10-15 di Giraudo 40 gol e Beto più o meno ci sta lui 7 più 7 più ci sta perché poi Beto, Botman nella fine lui c'è anche lui 4 pippe come me 7 più ci sta lui poi Marcello Lippi ha preso Blaovic, Caprari, Milik, Desert Diaz Müller e Bonazzoli allora titolari ha preso un big come Blaovic ok ci sta un gran gran colpo dipenderà molto anche da Allegri Allegri è uno che è capace di declassare i giocatori lui può fare tanti gol 20 gol sulla gara dovrebbe farli Milik è sostituto Milik è comunque un signore giocatore a mio avviso se un gioca lui gioca l'altro ci sta Caprari è uno che fa bene sta facendo bene Bonazzoli quindi hai un tridente buono poi Desert Bia chi cazzo sono non lo so magari sono dei titolari non ho idea non ho mai sentito di questi qua un un 7 ci sta perché Blaovic poi non è che hai fenomeni Bonazzoli gioca nella serenitana con tutto rispetto 10 gol nelle migliori delle ipotesi può fare un poco di più se li va bene Caprari è uno qualcosa fa non non hai la garanzia come avere due giocatori o tre giocatori forti come hanno hanno preso Vidal e Coso e Alberto poi l'ultimo non per non per vabbè Diego ha preso Lautaro Di Maria Pedro Rosano Belotti è un reparto vario mi piace Lautaro è un titolare dell'Inter è uno che sulla carta i 15-20 gol li fa una seconda punta quindi non difficilmente può fare 20-25 gol però è uno bravo cioè 15 gol te li fa insomma sulla carta te li fa 15 gol mettiamo al conto che ne facciamo anche 20 poi Di Maria è un fenomeno che in Serie A secondo me si troverà bene Di Maria boh se si gioca titolare magari 10 gol te li fa anche Pedro ha la sua età però 5-6 gol te li può fare Lozano è un gran giocatore secondo me 10 gol in qualche modo è un belotti non so dove gioca non posso dire Bettagna neanche non so dove cazzo giochi però penso che alla fine Bettagna qualche squadra di media bassa classica l'abbia trovato quindi qualcosa può fare a lui si dà consideriamo che hai Lautaro poi hai Di Maria della Juve due top club come Inter e Juve poi Pedro Lozano di due squadre importanti come Lazio e Napoli e poi due riserve due pippe che per forza devi prendere insomma non è che era rimasto tanto allora io penso che un 7 7 più se li merita nel senso che metti Di Maria Lozano e Lautaro rallunga i tuoi gol te li porta un 7 un 7 più detto questo ho finito anche questo video nel prossimo video andrò a spiegare come come avere una buona strategia e come cercare di fare l'asta e quali sono i segreti il